Siamo scesi in piazza per protestare contro la riforma del lavoro che purtroppo è stata per l'ennesima volta penalizzati sempre i soliti, i lavoratori in primis e sicuramente in maniera sempre più dura. Purtroppo il potere d'acquisto continua sempre a scendere e le tutele di pari passo stanno seguendo lo stesso andamento. Quali disagi e rischi in particolare per il vostro settore? Per il nostro settore? Intanto noi siamo comunque servizio pubblico però siamo normati dal diritto privato, di conseguenza siamo lavoratori privati e quindi per quanto riguarda l'articolo 18 e la riforma del lavoro siamo assolutamente assoggettati a queste modifiche assolutamente negative. Poi per quanto riguarda invece la questione di carattere più di prospettiva aziendale stiamo anche scioperando contro il decreto che è stato fatto dal governo Monti qualche settimana fa sulle liberalizzazioni che purtroppo ci vede interessati per una futura possibile privatizzazione dell'azienda con tutte quelle che possono essere le conseguenze sui lavoratori. Grazie a tutti.